Tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno. Tu sei davvero grande, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è male a te e non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'Alfa, l'Omega, il Re dei Re. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh Eterno. Noi diamo a te la gloria, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è male a te e non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'Alfa, l'Omega, il Re dei Re. Noi ci frustriamo davanti a te, oh Signore, oh Eterno. Noi ci frustriamo davanti a te, oh Signore, oh Eterno. Nessuno è male a te e non c'è altro Dio fuori di te. Sei l'Alfa, l'Omega, il Re dei Re. Ameno, vogliamo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 12. Leggeremo i primi otto versi di questo capitolo. Giovanni 12. Gesù, dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. La casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e, tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù, dunque, disse «Lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre». Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Potete accomodarvi. È una storia molto conosciuta dei Vangeli. e vogliamo appunto soffermarci su questa offerta, su questo dono, su questo pensiero di Maria verso Gesù. È questa un'offerta di grande valore dal punto di vista economico. Il valore di questa essenza, di questo profumo, è davvero molto elevato. Qualcuno, qualche studioso della parola, così, cercando di dare un prezzo a questo alabastro. Il suo prezzo era circa un anno di stipendio, il contributo di un anno di lavoro. e voglio considerare insieme a voi quanto è importante, fratelli e sorelle, l'offerta che noi facciamo al Signore. L'offerta in senso lato, in senso generale del termine. Il Signore ha dato tanto all'anima nostra, vero? E quello che noi siamo in grado di potergli dare, così come dice anche un cantico, è una piccola parte di quello che gli stesso ci dà. Ma noi siamo chiamati, non forzatamente, ad offrire al Signore, ma siamo chiamati a farlo liberamente. Perché il Signore non ama costringere o forzare qualcuno. Questo anche in termini di affetto, di sentimento, di zelo, di passione. Il Signore non ci costringe ad amarlo. Il Signore desidera che noi lo amiamo, questo sì. Ma non costringerà mai nessuno. L'offerta è spontanea. A Maria non gli venne chiesto di offrire qualcosa al Maestro, così come neanche a Marta e a Lazzaro di preparare una cena in onore del Maestro. Ma lo fecero spontaneamente. Sicuramente anche un forte senso di gratitudine era nei loro cuori perché Lazzaro era con loro, era morto e Gesù lo aveva risuscitato. E lì, in mezzo a quella tavola, in mezzo a quella cena, in quella sala, rappresentava una grandissima testimonianza. Venivano tutti a vedere Gesù, ma anche Lazzaro, che l'ha risorto. E credo, fratelli e sorelle, che Dio abbia fatto davvero tanto all'anima nostra da meritarsi tutto il nostro ringraziamento. Da meritarsi la nostra offerta, offerta intesa come primizia di ogni bene che noi abbiamo, sia dal punto di vista materiale, morale, spirituale. Tutto vogliamo offrire al Signore che sia primizia, il meglio. Il Signore ama innanzitutto che noi offriamo a Lui con i giusti sentimenti, con un'attitudine di cuore, che è descritta così dalla parola del Signore, e sarà l'Apostolo Paolo, che raccomandando l'offerta ai fratelli dirà Dì a ciascuno come ha deliberato, secondo Corinzi 9,7, Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia, né per forza, ma perché Dio ama un donatore allegro o gioioso. Quindi davanti al Signore non ha importanza la consistenza, il valore della semplice offerta. Il Signore è colui che guarda prima l'offerente e poi l'offerta. Per il Signore è importante che vi siano i sentimenti giusti, il cuore giusto, quando offriamo al Signore tutto quello che noi possiamo offrire. Noi siamo qui in questo momento, alla presenza del Signore, e stiamo offrendo a Dio il nostro culto. Gli stiamo offrendo la lode, l'adorazione. Amen, fratelli e sorelle. Bisogna anche dire che quello che offriamo al Signore ha comunque sempre un costo, un prezzo. Talvolta facilmente, diciamo, calcolabile in monete, ma altre volte la nostra offerta, il prezzo della nostra offerta è espressa in termini di tempo, espressa in tempo in termini di zelo, di dedizione, di impegno. E ringraziato sia il Signore per questo, perché sono questi i sentimenti che Lui ha messo nei nostri cuori. Davide si trovò a dover offrire al Signore un sacrificio, un momento terribile della storia del popolo di Israele, quando Davide era re. Ebbene, Davide commise un grande errore, peccò davanti al Signore. Non fu questo, certamente, il suo primo peccato, ma questo peccato portò, ahimè, delle conseguenze terribili, il peccato del censimento, su tutto il popolo di Israele, al punto che Dio lo costrinse a scegliere su tre mali, tre giudizi, che dovevano arrivare su tutto il popolo di Israele. E Davide non si capacitava, e dovendo scegliere, disse che non cada nelle mani degli uomini. Io preferisco affidarmi nelle mani del Signore, perché Lui è compassionevole. Non si sbagliò Davide, ma quel peccato che commise costò al popolo di Israele settantamila morti, a causa di una malattia. L'angelo dell'Eterno stava stendendo la sua mano su tutto il popolo di Israele, e la parola di Dio dice che egli arrivò a Gerusalemme, e l'immagine che vide Davide fu quella dell'angelo con la spada puntata verso Gerusalemme. E Dio fermò l'angelo, perché ebbe compassione di Gerusalemme, e chiese a Davide di offrire un sacrificio. Quando Davide andò lì da Ornan per offrire questo sacrificio, gli chiese il materiale, gli chiese anche gli animali, le bestie da poter offrire in sacrificio al Signore. E lui disse questo, leggiamo in primo cronache, capitolo 21, verso 24, Ma il re Davide disse a Ornan, No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo, poiché io non offrirò al Signore ciò che è tuo, ne offrirò un olocausto che non mi costi nulla. Disse così perché Ornan, dopo aver incontrato Davide, gli disse, prendi tutto quello che ti serve, è tuo, non voglio nulla. E Davide precisò che egli voleva prendersi tutto l'impegno personale e di poter offrire a Dio questo sacrificio. E noi vogliamo offrire al Signore, non i rimasugli, di quello che il Signore abbondantemente ci dona. E il Signore non ci dona solo il cibo, non ci dona solo la possibilità di amministrare anche le nostre ricchezze. Il Signore ci dona anche la vita, ci dona il tempo, ci dona tutto quello che noi possiamo amministrare. È tutto un dono dell'Eterno. Amen, fratelli e sorelle. E noi vogliamo offrire al Signore il meglio della nostra vita. Sappiamo che questo ci costa, ci costa impegno, ci costa il tempo, lo zelo, ci costa dal punto di vista economico, finanziario, perché no? Ma lo vogliamo fare con lo stesso spirito con la quale lo fece Davide. Offrirò al Signore e lo offrirò con impegno. Non offrirò qualcosa di qualcun altro, lo offrirò io. Mi prendo io. La responsabilità, il carico, il peso, di offrire questo sacrificio davanti all'Eterno, davanti al Signore. Fratelli e sorelle, che Dio ci dia grazia davvero di avere questo santo atteggiamento. Anani e Saffira, quando videro che lì a Gerusalemme la Chiesa si adoperava, la Chiesa meravigliosamente visitata dallo Spirito Santo, manifestava tutta la generosità che procede solo dal Signore. Perché, fratelli e sorelle, il cuore dell'uomo è un cuore malvagio. Non c'è la vera, la genuina generosità, quella che invece procede dal cielo. E Anani e Saffira sono davvero dei cattivi esempi. Decisero di trattenere parte di quell'offerta che avevano fatto credere di versare alla Chiesa, davanti ai piedi dei discepoli. E, fratelli e sorelle, riflettevo che noi siamo combattuti anche con queste armi. L'avversario ha delle armi con la quale ci combatte. E l'avidità, l'avarizia, l'amore per il denaro, la concupiscenza degli occhi, della carne, la superbia della vita, sono le cose, le armi, alcune delle armi, con la quale Satana ci combatte. E noi dobbiamo necessariamente rivolgerci al Signore. E che sia questa una parola che ci possa stimolare a comprendere quanto è importante che noi offriamo al Signore senza avarizia, senza avidità, annullando completamente l'amore per il denaro. Il Signore ci ha messo a disposizione tanto, fratelli e sorelle, e ci ha messo a disposizione questa sua preziosa parola. Non è un'arma debole, inefficace. Questa parola, fratelli e sorelle, ci aiuta non solo a comprendere, ma questa parola tocca il nostro cuore e ci fa vedere le realtà celesti. Se non fosse per questa parola, fratelli e sorelle, chi ci potrebbe illuminare per comprendere quello che accade intorno a noi dal punto di vista spirituale? Quanto è importante, fratelli e sorelle, il sacrificio della lode, dell'adorazione? Sapete, lodare e adorare il Signore è un grande, è un bellissimo impegno davanti all'Eterno. E credo che quando noi veniamo al culto sentiamo proprio il desiderio di adorare insieme il Signore. Amen. Perché mentre lo adoriamo, mentre noi lo lodiamo, il Signore opera nelle nostre vite, nei nostri cuori, e gli mette la sua pace. E' una riflessione che faccio per conto mio. E' un esame introspettivo del mio cuore. Ma a volte le distrazioni, i pensieri, si viene in chiesa e forse distrattamente cantiamo, distrattamente preghiamo, distrattamente non facciamo quello che è lo scopo per la quale siamo venuti qui. I tanti pensieri, gli attacchi del maligno, l'essere concentrati mentre offriamo il nostro culto al Signore, credo che sia alla base per poter combattere, per poter combattere, fronteggiare il nemico delle anime nostre che vuole rubare quello che il Signore invece ci vuole donare. E anche questa mattina, fratelli e sorelle, vi ricordate di quei cuori dove Gesù parlando in parabola presenterà, diciamo, le quattro tipologie di terreno e dirà il cuore che è paragonato alla strada è colui che ha ricevuto il seme, ma quella è strada, quel seme non riesce neanche a germogliare e quel seme prontamente viene il diavolo e lo ruba, lo prende. che non accada questo, fratelli e sorelle, nei nostri cuori, che non accada questo questa mattina, ma non solo questa mattina, vogliamo prenderci un sacro impegno davanti al Signore e dire, Signore, io voglio offrirti il meglio della mia vita, il meglio del mio cuore, il meglio della mia concentrazione. Mentre sono qui alla Tua presenza, non posso, Signore, essere distratto, ma sono qui perché devo renderti la lode, la gloria, l'onore e tutto il ringraziamento che ti è dovuto. Fratelli e sorelle, l'ubbidienza alla parola di Dio fa la differenza. Queste cose credo che le conosciamo e le sappiamo bene, ma praticarle e ubbidire alla parola del Signore ci permette davvero di offrire qualcosa a Dio che gli sia gradito. io ho in mente sempre quella bellissima offerta di Giobbe. Giobbe offrì qualcosa di straordinario. Maria venne colpevolizzata perché quello che fece era uno spreco. Secondo Giuda Maria spregò un anno di lavoro, tanto danaro ai piedi di Cristo e lui che era bravo con i numeri stimò il valore di quell'olio, di quel profumo e siccome era anche bravo nel discernere ciò che è buono e ciò che è male ovviamente sto parlando ironicamente disse lo potremmo si sarebbe potuto dare ai poveri ma la Bibbia ci rivela quello che era nel suo cuore è vero? Satana si aspettava da Giobbe che lo rinnegasse in faccia al Signore. Secondo Satana Giobbe temeva il Signore perché Dio lo circondava di benessere gli dava tutto quello che lui aveva bisogno e in sovrabbondanza e disse permettimi di togliergli quello che ha e vedrai se non ti rinnega in faccia. Ma leggiamo questo di Giobbe nel primo capitolo verso 20 dopo che perse tutto allora Giobbe si alzò si stracciò il mantello si rase il capo si prostrò a terra e adorò dicendo nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore tutto questo in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa ditemi voi fratelli e sorelle non è questo un profumo che è arrivato quel giorno alla presenza del Signore non è questo il cuore l'adorazione che Dio gradisce dai nostri cuori ma Satana non smise di infierire contro Giobbe perché al primo tentativo egli fu sconfitto e si ripresentò davanti al Signore e Dio nuovamente visto Giobbe il mio servo come integro e lui disse dammi dammi l'opportunità di colpirlo nella vita nella sua vita nel suo corpo sappiamo la storia fu colpito da un'ulcera che lo faceva soffrire la parola di Dio dice che dalla cima della sua testa fino alla punta dei suoi piedi era pieno di ulceri addirittura si grattava con i cocci e al capitolo 2 di Giobbe verso 8 al verso 10 leggiamo sua moglie gli disse ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia stare Dio e muori Giobbe le rispose tu parli da donna insensata abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra gloria al nome del Signore fratelli e sorelle ci sono tanti modi in cui noi possiamo rendere al Signore un sacrificio di grande valore quando offriamo al Signore qualcosa di materiale quando offriamo al Signore il sacrificio della lode dell'adorazione quando offriamo al Signore il nostro tempo quando offriamo al Signore il nostro sentimento quando offriamo al Signore sapendo che il meglio Egli merita dalla nostra vita e noi vogliamo offrirgli sempre le primizie mi sento di dire fratelli e sorelle oh Signore abbi pietà di me se dovessimo considerare il valore di questo alabastro certo è una grande offerta che lasciò sbalorditi anche i discepoli io credo che forse probabilmente nessuno abbia offerto qualcosa di così grande valore come l'offrì Maria Gesù e Gesù disse che questa storia lei sarebbe stata ricordata nei secoli questa storia sarebbe stata ricordata nel futuro sarebbe stata raccontata anche quello che stiamo facendo oggi a distanza circa di duemila anni ma vogliamo considerare fratelli e sorelle quello che Dio ha offerto per noi egli ha mandato il suo figlio la parola di Dio dice che non c'è altro nient'altro che Dio potesse offrire che abbia un valore più alto di quello del suo figlio Cristo Gesù ha offerto il meglio il massimo e se sicuramente Gesù per tutto quello che aveva fatto meritasse quell'offerta e come se la meritava fratelli e sorelle insieme a loro c'era Lazzaro che era morto ed era morto già da quattro giorni e era stato risuscitato dal Signore non meritava Gesù un'offerta simile solo per quello che aveva compiuto in quella famiglia in quella casa Gesù era pienamente meritevole per tutto il bene che gli aveva fatto ma noi cosa meritiamo fratelli e sorelle cosa abbiamo meritato mai nella nostra vita abbiamo meritato noi o meritiamo il sacrificio di Cristo Gesù lì sulla croce quanto ci ha stimati degni il Signore da darci il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi la parola di Dio ci dice leggo questi versi in modo che possiamo comprendere il prezzo che è stato pagato per noi fratelli e sorelle nel salmo 49 verso 7 ma nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto e poi leggiamo in primo corinzi capitolo 6 verso 20 poiché siete stati comprati a caro prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo e poi ancora nel capitolo 7 verso 23 voi siete stati riscattati a caro prezzo non diventate schiavi degli uomini e ancora in Timoteo 2 6 ha dato se stesso Cristo Gesù come prezzo di riscatto per tutti questa è la testimonianza che egli ha reso per noi e che altro se leggiamo in Isaia quando leggiamo che Dio ha voluto stroncarlo con i patimenti affinché quell'offerta quel sacrificio potesse produrre vita e vita eterna nei nostri cuori il prezioso sangue di Cristo Gesù è l'offerta che il Padre ha rivolto verso ciascuno di noi e credo fratelli e sorelle che più che lo spreco di Maria mi sentirei dire guardando alla mia debolezza alla mia incapacità alla mia poca fede alle mie titubanze alle mie mancanze che quella forse davvero poteva essere considerata un'offerta sprecata ma Dio non lo ha fatto con i sentimenti cattivi non lo ha fatto per trarne solo egli stesso dei benefici lo ha fatto per amore lo ha fatto manifestando tutti i suoi sentimenti tutto il suo desiderio e tutta la sua volontà e io non so spiegarmi non lo potrò mai spiegare perché Dio ha pagato un prezzo così alto dando suo figlio in sacrificio per la nostra redenzione per la nostra vita e davanti a questa considerazione potremmo noi fratelli e sorelle offrire a Dio i rimasugli del nostro tempo i rimasugli delle nostre finanze i rimasugli della nostra dedizione della nostra consacrazione i rimasugli della nostra vita no signore io ti offrirò le primizie perché tu ne sei sommamente degno vogliamo alzarci in piedi gloria a te signore alleluia gloria al tuo nome signore lo stratega di Giuda che valutò 300 cicli d'oro quella alabastro fu lo stesso economista che valutò Gesù per 30 denari d'argento il mio Gesù non ha valore è immenso il suo valore egli merita tutta la nostra devozione tutta la nostra consacrazione egli merita il meglio e quando anche sapessimo offrirgli il meglio il tutto l'impossibile non avremmo fatto mai niente a sufficienza per questo vogliamo dire insieme signora aiutami ad offrirti a farlo con i giusti sentimenti signore aiutami a darti le primizie signora anche quando sono nella tua casa signore mentre lo preghiamo lo stiamo adorando davvero fratelli e sorelle non lasciamoci prendere dalle distrazioni da chi passa al nostro fianco da cosa indossa da come è vestito siamo qui alla presenza di Dio Dio è qui con noi egli ci guarda egli ci osserva egli ci scruta egli vede i sentimenti abbi pietà signore gloria a te signore gloria a te gesù all'amore gloria a te gloria a te gloria a te gloria a te gesù sì degno 938 gloria a te gesù grazie a te gloria a te gloria a te gloria a te dici l'amore gloria a te e viene con tu amor te mire il viso che Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pietra del sepolcro possa è, la tomba è vuota e il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti, Gesù vivo non si trova qui. Egli è degno della nostra note, è glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra note, è glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. Egli è degno della nostra note. E' glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.